E lui, al posto del casellino, ha un fermo con un dado evitato. Ah sì? Che? Vitegli il dadino. Ma tu? Ma tu mi farà male? Ma tu mi farà male, in fondo si tratta di un dadino equinale che gli impedisce l'aperistarsi o rinato. Che non vado a niente. Che? Che c'è? Dottore, tu gli hai svitato il dado? Sono perete le palline. Via le palle e buttalo fuori. Ma dottore... Senta signora, mi ha retto un dottore. Suo figlio è tutto rotto, non si può giustare. Lo butto e le faccia uno nuovo. Sì, lo faccio con lei. Con chi? Lei è una persona adatta. Ma che siete da familiare? Mi dite un consiglio, non piano di sotto. C'è un congresso rappicinato dai nostri tentativi.